Trascorre la domenica in montagna e si ritrova tu per tu con un orso nel parco nazionale della Maiella. E' accaduto a Paolo Battalini di Pacentro, esperto alpinista con una bella carriera dalle vette abruzzese alle scalate su Cervino e Montebianco. L'alpinista di Pacentro, amante della montagna, dice di aver conosciuto diversi animali, ma dentro di sé sognava di incontrare un orso e domenica scorsa il suo sogno si è avverato, nonostante sia ancora incredulo. Era il 7 giugno quando durante una semplice passeggiata in montagna nei pressi di Campo di Giove l'alpinista si trovava in una radura aperta e ha notato la presenza del plantigrado a 30 metri. In un primo momento un po' di spavento perché l'animale annusava in aria ma non aveva notato subito l'uomo, poi improvvisamente si è accorto della sua presenza e sono rimasti entrambi a guardarsi. Lunghi attimi molto intensi dove Paolo con sangue freddo e mantenendo la calma è rimasto fermo. Una volta capito che l'animale non aveva intenzioni minacciose, l'alpinista ha preso la sua macchina fotografica e ha scattato alcune foto che sono andate a finire su National Geographic a coronamento di una domenica tutta particolare.